L'ordine dei medici di Trapani ha sospeso Alfonso Tumbarello dopo l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del medico che, secondo la procura di Palermo, avrebbe favorito la latitanza di Matteo Messina Denaro. Tumbarello, si legge in una nota dell'ordine, risulta sospeso opeleggis fino a quando perdurerà la misura cautelare. È chiaro comunque l'ordine darà corso ad un procedimento disciplinare. Rimaniamo in attesa, ha affermato il presidente dell'ordine Vito Barraco, di conoscere l'esito della vicenda giudiziaria confinando nell'accurato e delicato lavoro della magistratura e su cui noi riponiamo massima fiducia. Già nelle settimane scorse, ha preciso ulteriormente il presidente dell'ordine dei medici, avevamo audito i due medici indagati, il dottor Tumbarello e il dottor Zerilli, malgrado non abbiano mai ricevuto ufficiale comunicazione da parte degli organi inquirenti e giudicanti. È di tutta evidenza comunque che il provvedimento adottato nei confronti del dottor Tumbarello necessita da parte dell'ordine dei medici di quella giusta cautela fino a quando le risultanze investigative e giudiziarie non saranno meglio definite e inquadrate. Per quanto invece riguarda il dottor Filippo Zerilli, del quale apprezziamo la trasparenza che si evince dalla nota stampa diffusa allo stesso in autonomia, continua Barraco, quest'ordine ha preso atto e le spiegazioni fornite in fase di audizione, neanche in questo caso, non avendo ricevuto né solleciti né dispositivi ufficiali da parte degli organi inquirenti, non può che astenersi a quelle regole di deontologia e rispetto etico proprie del giuramento di Ippocrate a cui ogni medico fa riferimento svolgendo la sua professione.